Alla fine l'importante non è vincere, ma... Partecipare! Marco! Sorrisi, passione e tanto divertimento. Grande successo per Gioco Atletica 2016. Quasi 2000 bambini in arrivo dalle scuole e di tutto il comprensorio hanno affollato gli impianti sportivi di Santa Croce. È una giornata di sport, di amicizia, di pace, perché lo sport ha sempre portato a pace e a costruire ponti, non a erigere muri. Penso che più di così ai nostri bambini, a nostra città, non potremmo chiedere. Lo sport fa crescere il fisico e la mente. L'iniziativa fiore all'occhiello del gruppo atletico Bassano da anni ha l'obiettivo di trasmettere i valori della lealtà e della sportività. Nato nel 1995 il gioco atletica, si conclude con questa giornata di festa in cui i piccoli atleti possono sperimentare tutte le specialità dell'atletica leggera. Qual è il gioco che vi piace di più? Calcio! Il mio è il tennis! Ok! Karate! Grazie!